Gioco sul doppio senso del titolo che è stato dato a questo rapporto, al rapporto di quest'anno Fatti di prossimità. Indubbiamente il titolo si riferisce alla raccolta di buone prassi della Caritas regionale, delle Caritas diocesane che in questo periodo hanno profuso tutto il loro impegno nel farsi vicine alle situazioni di bisogno in questo lungo tempo di pandemia che ha determinato nuove povertà che si sono aggiunte a quelle già presenti e alcune cronicizzate. Molti fatti che vengono raccontati e che offrono anche una visione positiva proprio per questo essere riusciti a soccorrere, assistere, farsi prossimi ai poveri, vecchi e nuovi del nostro territorio. Ma questo titolo potrebbe anche prendere un altro significato. Fatti di prossimità potrebbe essere una sorta di indicazione antropologica. Noi siamo fatti, costituiti dalla prossimità. Cioè noi esseri umani abbiamo strutturalmente questa vocazione a relazionarci, a stare vicini, ad aiutarci e tutte le volte che lo dimentichiamo o che lo trascuriamo siamo meno umani. Perdiamo qualcosa della nostra realtà che allora precipita in me una situazione sempre più scura e pericolosa e rischiosa. Bene, credo che... Credo. Bene, credo che... Bene, credo che...